Ben ritrovati gentili amici del canale youtube Gianluca Rossi tv. Allora dopo la vittoria all'ultimo respiro con tanta adrenalina di Firenze ho aspettato naturalmente che si completasse questo undicesimo turno per capire alla fine se la nostra vittoria aveva portato cose positive ossia un certo accorciare in classifica parliamoci chiaro. Cominciamo da questo perché in questa analisi che è sempre posta che è sempre se vogliamo del giorno dopo vado un po' ad analizzare gli aspetti complessivi oltre a come hanno giocato i nostri. A proposito per quanto riguarda i nostri quindi rivedendo bene la partita di Firenze una sorta di pagelle devo dire che io da Onana, Skriniar, De Vrij e Acerbi non ho tratto cioè quindi tutto il pacchetto difensivo non ho tratto grandi indicazioni positive infatti ho dato a tutti 5 e mezzo. In difesa sugli esterni ho salvato Darmian che ha iniziato lui in pratica l'azione del primo gol del primo gol appunto di Barella ho dato 6 e mezzo ad Armian ma anche Dumfries secondo me è entrato male 5 e mezzo molle in marcatura Jovic. Passiamo al centrocampo perché ormai le pagelle le faccio per reparti anzi prima l'altro esterno Di Marco malissimo ci poteva stare il rosso adesso mi sembrano esagerate un po' tutte queste polemiche Di Marco arriva in ritardo sicuramente l'intervento è brutto ma non è che Bonaventura volesse ammazzarlo cioè ogni tanto ci sono queste dinamiche ripeto gli ho dato 4 e mezzo perché sappiamo che Di Marco è un ottimo giocatore in fase offensiva meno in fase difensiva. Un po' meglio Gossens quando è entrato al minuto 67 perché è riuscito a star calmo anche troppo un po' sul corner di Jovic ad esempio però vabbè insomma diciamo che il 6 l'ha ottenuto. Reparto di centrocampo direi 7 Barella gol in avvio un altro se l'è mangiato comunque c'è stato ancora il suo zampino nell'ultima azione che ha regalato la vittoria all'inter il dato di Barella ecco completo la pagella con un dato mi sono segnato un po' di cose se no ecco pensate che ha già fatto 5 gol in 14 partite cioè ha superato il record suo delle ultime tre stagioni perché ne aveva fatti 4 nel 19-20 3 nel 20-21 4 nel 21-22 ora siamo già a 5 in 14 partite ecco diciamo che Barella sta andando bene ragazzi anche a livello di gol io continuo a dire che dovrebbe stare un po' più calmo e quindi il 7 ci sta 6 e mezzo a Cialanoglu e Mkhitaryan Mkhitaryan anche e soprattutto per il gol in attacco direi che Correa lo sapete è stato invisibile l'unico merito avuto che ha e forse la collaborazione nei primi due gol dell'Inter con i suoi movimenti una collaborazione esterna però Correa è da 5 ho visto che è una nuova vittima dei tifosi in questo momento ci sta ragazzi perché sta andando male Correa 5 senza senza problema sapete che poi io essendo un fan di Correa mi aspetto molto di più e quindi sono ancora più severo quindi 5 se volete dargli 4 e mezzo dategli pure 4 e mezzo Dzeko devo dire invece il professore straordinario 7 perché parte da lui da quel duello aereo vinto insomma in mezzo al campo l'avvio del 4 a 3 definitivo insomma lui fa sempre il centravanti regista lo fa molto bene 7 Lautaro Martinez 9 9 ragazzi assist gol rigore conquistato rigore trasformato in questo momento con questo 9 vi voglio dire che l'Inter è Lautaro Martinez non ci sono santi quindi benissimo sugli altri insomma Bellanova non mi ha fatto impazzire perché secondo me dovrebbe correre un pochino di più anche se entra negli ultimi minuti e ripeto su Inzaghi devo dire sono il primo a dire che togliendo Lautaro gli do 6 perché comunque la partita l'ha portata a casa e molti dei nostri giudizi sono figli del risultato allora diciamo che togliendo Lautaro indubbiamente ha dato alla squadra il messaggio di difendersi però buondio all'ottantacinquesimo ci può anche stare non bisogna scandalizzarsi anche se la Fiorentina non è eccelsa ma in quel momento è scatenata all'ottantacinquesimo a 5 dalla fine più recupero si può anche dare il messaggio alla squadra di difendersi cosa c'è di male lo fanno in tanti il problema è che la squadra non è in grado di difendersi quindi scusate scusate se i nostri non ci arrivano si ritraggono fino a subire il 3 a 3 a parte che abbiamo preso dei viola dei gol meravigliosi da sigla tv qua diventano tutti fenomeni contro noi hanno fatto dei gol ragazzi non so se li avete visti tra Iovici con E eccetera mamma mia che gol hanno fatto però insomma io giudico peggio coloro che non sono stati capaci in campo di difendersi piuttosto che Inzaghi e Inzaghi do sei cos'è successo in questo undicesimo turno ragazzi dobbiamo prendere la classifica e onestamente capire che pur vincendo non abbiamo guadagnato nulla da Napoli Milano e Lazio perché hanno vinto è vero che invece adesso con 21 punti ma ricordate il campionato finisse oggi siamo sempre settimi siamo sempre in conference league è vero invece che approfittando delle sconfitte di Atalanta Roma e Udinese ecco l'Udinese l'abbiamo agganciata la Roma adesso è a un punto e diciamo che l'Atalanta e anche la Lazio che ha vinto stanno a 24 stanno insomma nel mirino a una partita adesso c'è Inter Sampdoria bisognerà vedere tutte le partite del prossimo turno però ragazzi il Napoli è una squadra che in questo momento ha vinto a Roma cioè ha vinto a San Siro è una squadra incredibile adesso l'unica partita che ha da qui alla sosta il Napoli difficile è la trasferta a Bergamo con l'Atalanta perché poi ha in casa Empoli e Udinese ha in casa il Sassuolo sono tutte partite dove potrebbe allungare io continuo a dire che il nostro adesso il nostro input deve essere di non perdere di non perdere terreno anche il Milan complessivamente secondo me è il calendario facile quindi adesso se siete d'accordo direi nella mia analisi cominciamo a scalare le altre cioè Udinese Roma e se possibile Atalanta Lazio e Napoli Milan magari ce la giocheremo a gennaio ecco l'importante sarebbe non perdere ripeto non perdere ulteriore terreno non andiamo assolutamente bene in difesa ragazzi è inutile che che ve lo ve lo dica siamo la difesa più battuta in assoluto in trasferta e siamo credo la 14 la quindicesima difesa complessiva non è possibile che prendiamo sempre tre gol questo è un aspetto sul quale bisogna lavorare perché tre gol con l'Udinese tre gol col Milan tre gol con la Lazio tre gol con la Fiorentina ci metto anche i tre gol col Barcellona anche se vabbè quella è una partita di natura diversa c'è un allarme difesa ragazzi andando avanti così con la quattordicesima difesa del campionato difficilmente riusciremo a fare a breve cose importanti quindi o sistemiamo quella che è stata a lungo o la migliore o la seconda miglior difesa del campionato nelle scorse stagioni è una cosa inspiegabile questa è una cosa abbastanza inspiegabile per lo meno io non ho una spiegazione se non la concentrazione e quindi e quindi lavoriamoci sopra perché anche cambiando gli interpreti una volta d'Ambrosio una volta a Cerbi una volta a Debrai una volta a Skriniar no proprio non ci siamo c'è questo aspetto positivo che andiamo a vincere le partite al novantesimo al novantacinquesimo a Lecce avevamo vinto al novantacinquesimo lo ricorderete con un gol di Dunfriss col Torino abbiamo vinto all'ottantanovesimo col gol di Brozovic a Barcellona ci metto anche la Champions abbiamo pareggiato sempre all'ottantanovesimo con Gossens e abbiamo vinto a Firenze appunto 4 a 3 col gran gol di Mkhitaryan ancora al novantacinquesimo quindi la squadra reagisce adesso però ragazzi se non sistemi la difesa scusatemi ma non puoi andare avanti a prendere tre gol a partita vi saluto in questa analisi del giorno dopo settimana di coppe settimana di assemblea dei soci quindi tra mercoledì e venerdì avremo naturalmente ulteriori novità questa diciamo l'analisi del giorno dopo cari amici nerazzurri un saluto da Gianluca Rossi Vintel Vintel Vintel